San Giorgio Ionico, importante comune della nostra provincia, sette cantieri aperti per altrettante opere pubbliche, ne parliamo con il Sindaco. Sindaco dunque, lavori in pieno agosto per assicurare strade, scuole, insomma efficienza. Sì, io intanto ringrazio la tua emittente e te, direttore, per la consueta cortesia e amicizia che mostri nei confronti della nostra comunità. È vero, ci sono sette cantieri aperti, oggi abbiamo iniziato i lavori su un importante snodo viario del nostro comune, che è via Lecce con l'angolo con via Leonardo da Vinci, dove stiamo realizzando una rotatoria che sarà la prima di tre rotatorie che verranno realizzate a brevissimo a seguire. L'altra sarà sulla congiungente la strada per Grottaglie e via Lealdomoro e infine l'ultima rotatoria sarà fatta sulla strada provinciale per Pulsano. Sono tre nodi viari importanti che stiamo cercando di mettere ancora di più in sicurezza rispetto al passato. Ecco, Sindaco, uno dei problemi della pubblica amministrazione è la ricerca dei finanziamenti, ma poi anche sveltire tutte le pratiche burocratiche per consegnare ai cittadini le opere in tempi certi. Sì, infatti noi oltre queste opere che soprattutto gli interventi di risfruttazione negli edifici scolastici abbiamo realizzato con fondi regionali o comunque con fondi comunitari, abbiamo in animo di iniziare nei prossimi mesi altri interventi importanti, sia allo stadio comunale che ai campi da tennis, sempre attraverso il ricorso a fondi presso il CONI o presso regione o comunità europea. Quindi abbiamo un intenso lavoro di richiesta e di ricerca dei fondi grazie agli uffici, all'assessorata ai lavori pubblici, abbiamo ottenuto degli finanziamenti importanti che ci permettono oggi di poter realizzare e di stare a realizzare importanti opere per il nostro territorio. Ecco, poi concludendo, diciamo che il decoro della città spetta da una parte importante alla pubblica amministrazione, ma l'altra parte ancora più importante ai cittadini, al loro senso civico, ad aiutare le nostre comunità a essere orgogliose dei posti dove si vive. Hai perfettamente ragione. Noi come amministrazione cerchiamo di mettere a disposizione dei cittadini di San Giorgio, ma non solo dei cittadini, di tutti quelli che in qualche modo vengono nella nostra comunità, dei posti pubblici, delle piazze, delle ville, delle strade, che siano all'altezza della richiesta dei cittadini stessi. Preghiamo i cittadini, tutti, di avere più rispetto per la cosa pubblica perché tutto ciò che viene fatto dalle pubbliche amministrazioni, se non viene mantenuto efficiente e viene curato dai cittadini stessi, si vanifica tutto il lavoro che viene fatto perché poi è difficile realizzare le opere, è difficile mantenerle in efficienza, senza l'aiuto dei cittadini sicuramente è una battaglia persa.